Non tutte le scarpe sono adatte a tutte le donne e scegliere il modello giusto è fondamentale per evitare traumi e dolori che purtroppo sono molto diffusi. Per curare questi disturbi scende in campo la podologia riabilitativa che come afferma la dottoressa Angela Ravisato mira ad un approccio conservativo di cura e di prevenzione dei segmenti a rischio di lesione. È possibile trattare il piede doloroso tramite ortesi plantari, bendaggi e con terapia fisica e strumentale. Metronic ad esempio ha sviluppato il dispositivo laser Tial Therapy.